bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di minecraft ita ci siamo portati avanti abbiamo trovato un ferro 51 diamanti e ora neanche l'ombra però prendiamo uno stacco di ferro facciamonci i bastoni e un piccone un piccone ecco qui quanto siamo ricchi poi forse non avete visto teniamo anche la carazza ecco qua qua poi giù mi sono fatto il piccone di ferro perché giù poi abbiamo trovato altri diamanti 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 e poi solo 6 ok non mi posso lamentare eh ragazzi addensite ok 6 6 6 6 8 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 11 11 11 15 14 15 15 bello saremmo però io l'armatura di diamante non me la farei oh mamma mia ma ma chi sono chi sono ditemelo dire qua sotto nei commenti chi sono ok saliamo depositiamo tutto quello che abbiamo trovato forse ci possiamo fare anche un enchanti table però ci serve un libro e per fare il libro serve ora vado a vedere la carta del cuoio ok 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 però ora mi appena venuto in dubbio ora le devo uccidere le pecore che tengo già a letto ma se lei che te ne importa non era questo il dubbio scrivetemi qua sotto nei commenti se dovrei fare qualcosa altro utensile diamante ok 11 però ora come si fa la carta possiamo fare due e ognuna vale tre tavolo ah non mi sono fatto un libro mi sono dimenticato ma l'ho letto pure libro a questo mondo sto giocando davvero tanto e gli sto dedicando tutto mamma mia voi non potete capire questo mondo per me è unico e vabbè sto un po' asaggerando nove andiamo ok ok pane ok dobbiamo farci un'altra cassa però serve legno e quindi ce la facciamo più la mamma mia e prendiamo sempre run va bene io direi facciamo 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 accoppiare queste due mucche non piazza non piazza non blocco rompiamo questo eccolo 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 qui il nostro vacchettino bek non vabbà 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 non siamo morti per far su 5 di mandorle 5 di mandorle io direi che per oggi miniera non siamo andati male dobbiamo fare dobbiamo prendere un po' di legno quindi facciamoci una pala in ferro però prima dobbiamo prima dobbiamo si dobbiamo mettere a cucinare questo ferrame il ferrame e ora io direi che possiamo concludere ragazzi possiamo concludere qui e io direi che per oggi abbiamo fatto molto lasciate un mi piace se ancora non avete fatto commentare noi ci vediamo nei prossimi episodi con un prossimo video nei prossimi giorni con un prossimo episodio di questa vanilla principale che sta facendo veramente goal a tutti e beh io direi direi che ora possiamo concludere bello è bello è Grazie.